E' un po' che devo andare a 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 andare. La tricetta è già andata bella. Che schifo. Questa è un film dedicato a Giorgio Toscano, scusa un attimo. Questa è un film dedicato a Giorgio Toscano. Che fa Giorgio, guarda, guarda il presciutto. Il film dedicato a Giorgio Toscano. Digni che gli pensiamo tanto. Questi momenti sono i nostri pensieri. Per chi è? Per i Toscani. Giorgio Toscano. Giorgio Toscano. Gliela mettiamo in YouTube. Di sacrificio. Sto spedendo di sacrificio che abbiamo. Di pensiamo. All'argosato. Giorgio, guarda chi c'è, guarda. Giorgio, guarda chi c'è, guarda. Giorgio, guarda chi c'è, guarda. Così metto i piluquini e ci rendo i piluquini. Te lo presento. ... ... ... Sì, no! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.